Noi di lavoro facciamo le soste. Io ho spiegato loro che secondo me hanno una potenzialità e ragazzini da incredibile su quello che è il tessile. Quindi questa loro spontaneità, questa loro semplicità, questo loro giocare col colore ci fa gioco. Ci mettiamo impostaboli, i colori che noi usiamo. E non è, ah che bello perché l'ha fatto un down, ah che bello appunto e basta. Abbiamo incominciato con l'aiuto delle mie ragazze a impostare come si potesse intervenire col colore. È stato un pochino pilotato ma lasciando anche loro che siano liberi di metterci del loro. A me piace questo lavoro perché mi dà carica e mi dà troppa energia. Anch'io ho addirittura a questo progetto da Geops. Voglio raccogliere un po' di soldi perché mi devo comprare una casa. Mi vende per quello, sono sereno. Penso che sia bello il fatto che loro facciano delle cose in cui il risultato finale diventa gratificante per loro, per il consumatore finale. Sono felice, sono qua. Voglio abitare con una famiglia, non con i miei genitori ma con Lucia perché Lucia è la mia ragazza. I ragazzi che usano il rullo e i pennelli stampano il tessuto e rispetto a un tessuto tinto in capo ha una solidità all'usura, alla temperatura, alla luce superiore di qualsiasi tessuto tinto ad immersione. Grazie a tutti.